C'è chi è d'accordo, c'è chi esprime totale di senso, c'è chi non si pronuncia. L'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Gela, Domenico Mensinese, ha provocato un vero e proprio dibattito, soprattutto in rete. Il primo cittadino ha destinato al naturismo 6 km di spiaggia gelese, tra la foce orientale del canale Scolmatore ed il fiume Dirillo, in contrada Bulala, nei pressi del Biviere. Una porzione di costa dunque che sarà a disposizione dei nudisti. Saranno vigi urbani ed operai della Tecra a fissare con la cartellonistica gli spazi previssati e garantire la pulizia della spiaggia. Negli anni 50, in quei luoghi, ha detto il primo cittadino, si era insediato il cosiddetto Village Magique, un'oasi internazionale creata da un imprenditore francese. Non vogliamo alimentare nessuna polemica né turbare alcuna sensibilità e nostra intenzione è solo intercettare uno segmento di turismo per promuovere le spiagge dorate decantate persino dal Nobel Salvatore Quasimodo. Il sindaco sottolinea inoltre che sono 20 milioni di naturisti in Europa, con sole 600 strutture tra campeggi e villaggi che rispondono a questo tipo di domanda turistica. Con uno dei lidi naturisti più consistenti del Mediterraneo, Gela è pronta a conquistare anche questa fascia di mercato. Trascurare un fenomeno in aumento come questo sarebbe un atto di irragionevolezza politica oltre che culturale. Ma non mancano le polemiche. La sezione Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale di Gela, dopo un attento studio del piano regolatore generale, sottolinea che lo stesso recita. Il biviere Macconi Gela, che ricade all'interno della rete di Natura 2000 e che si trova a destra dell'abitato gelese, a ridosso dello stabilimento, fino ad arrivare al confine con il territorio di Vittoria, è un sito identificato sia come SIC, sito di interesse unitario, sia come ZPS, zona di protezione speciale. In quella zona, sottolinea Fratelli d'Italia, non si possono costruire o realizzare aree ricettive o per nudisti. Inoltre, in tutta quell'area, insistono centinaia di piccole aziende agricole a conduzione familiare e le stesse zone sono interdette alla balneazione. Il capogruppo del Partito Democratico e del Consiglio Comunale, Enzo Cirignotta, intende chiedere la convocazione di una conferenza dei capigruppo per discutere dell'ordinanza emessa dal sindaco. Cirignotta ritiene che, trattandosi di un argomento delicato, il tema vada approfondito. La conferenza dei capigruppo, con tutta probabilità, si terrà lunedì prossimo. La conferenza dei capigruppo, con tutta probabilità, si terrà lunedì prossimo.